Quella di Mastelli è una novità introdotta dall'amministrazione nell'ordinanza sindacale che disciplina la raccolta differenziata. Ora, chi non ritira il Mastello soggiaccia una sanzione molto molto pesante per cui ovviamente, come dire, oggi è molto facile capire chi non ritira il Mastello è sufficiente fare un controllo incrociato tra i database dell'ambiente e dei residenti dello Stato civile e dell'anagrafe e questo permetterebbe di risalire in tempo reale a tutti coloro che non hanno ristirato il Mastelli. Ovviamente fino a ieri non era prevista una sanzione, oggi sì per cui le invito a tutti, recattevi presso il deposito di Ambiente Italia a Predanieda per ritirare i Mastelli entro mercoledì prossimo perché ovviamente scatteranno i controlli.